L'Era della Rovina DEC TUTORIAL 1 KING GO Ciao ragazzi ed eccoci qui con i DEC TUTORIAL dedicati all'Era della Rovina per chi non avesse mai visto i nostri DEC TUTORIAL si tratta di video in cui presentiamo dei mazzi costruiti unicamente con carte o dell'ultima serie o comunque dell'ultimo blocco in questo caso quindi abbiamo costruito due mazzi con le carte del blocco Amunket quindi la serie Amunket più la serie L'Era della Rovina e il primo mazzo ce l'abbiamo qua ed è... cosa sarà mai? cosa si racchiuderà in questo portamazzo con Samut? che c'è? che c'è? vediamo un po' pure i bustini Samut tutto in coordinato ebbene si nasconde un mazzo gatto ebbene sì in Egitto non poteva mancare un mazzo dedicato ai gatti l'animale più sacro dell'Egitto non dire gatto se non ce l'hai nel sacco ricordiamocelo esatto e noi ce l'abbiamo nel portamazzo esatto allora vediamo un po' come siamo andati a costruirlo cominciamo con quattro gatti sacri le nostre creature a costo uno poi a costo due abbiamo quattro Adorn and Pauser poi a costo due sempre abbiamo quattro guardiana della fratellanza poi passiamo ai costi tre ed ecco che abbiamo a costo tre è un secondo che è un po' nascosto questo devo trovarlo eccolo qua l'ho trovato serpopardi in agguato quattro serpopardi poi sempre a costo tre abbiamo quattro bei loncini quattro sovrano del branco passiamo poi ai costi cinque saltiamo il quattro direttamente al cinque abbiamo quattro lince reale un cavallo sì c'è anche un cavallo un destriero solare cristato e poi passiamo alle carte non creatura come di mozione abbiamo quattro espellere e poi qualche incantesimo abbiamo tre ordarie della fratellanza e tre processioni dei consacrati per finire le terre abbiamo quattro terre doppie quattro selve di radate quattro dune di scefet e poi le terre base uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette pianura uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove dieci foreste spieghiamo un po' come è la strategia del mazzo allora come avete potuto vedere mentre vi mostravo le carte abbiamo un po' di gatti abbiamo il gatto sacro che è a costo uno, uno, uno con legame vitale che si può imbalsamare pagando un solo manabianco quindi se è la cimiteria potremmo esiliarlo per creare la nostra copia pedina abbiamo poi la dornepuncer questo gattino uno, uno a costo due con doppio attacco e la versione potenziata di imbalsamare che è eternalize quindi se abbiamo la cimiteria potremmo pagare cinque di cui due bianchi per esiliarla e creare una sua copia pedina che però è un 4,4 invece che un uno, uno che con double strike ti direi che non è per niente male e poi come altro gatto abbiamo il serpopardo in agguato un bel 4,3 a costo 3 serpente felino che non può essere neutralizzato e per di più rende tutte le nostre altre creature che lanciamo non neutralizzabili ma qual è il vantaggio di avere tutti questi gatti a parte dover spendere tanto magari nel cibo che non è proprio un vantaggio il vantaggio è nel sovrano del branco e nella lince reale andiamo un po' a vederlo il sovrano del branco a costo 3 è un 2,2 e ha più uno più uno per ogni altro felino o gatto che controlli quindi già lui si potenzia in base a quanti gatti abbiamo per di più se paghiamo un bianco lo tappiamo e lo stremiamo quindi al prossimo turno non si stapperà creiamo 2 pedini creatura felino 1,1 con legame vitale quindi ancora più gatti che per di più hanno legame vitale quindi ci aiutano magari in una situazione in cui magari stiamo un po' correndo a chi fa più danni con il nostro avversario e essendo gatti potenziano il sovrano del branco per di più abbiamo la lince reale che a costo 5 è un 3,3 felino ed ha più uno più uno legame vitale agli nostri altri felini e per finire ciliegina sulla torta quando entra nel campo di battaglia creiamo 2 pedine felino 1,1 bianchi con legame vitale quindi già da sola un 3,3 che crea 2 pedine 2,2 con legame vitale grazie al bonus della prima abilità e poi dà anche legame vitale e più uno più uno a tutti i nostri altri gatti in particolare è un'ottima combinazione con la Dorn and Pouncer in quanto avendo il double strike infligitano due volte quindi se ha legame vitale guadagniamo il doppio delle vite questo è tutto l'aspetto felino diciamo c'è poi ci sono per altri due aspetti del matto che sono un primo aspetto l'aspetto di guadagnare vita infatti come avete potuto notare ci sono un po' di carte che hanno legame vitale e noi possiamo sfruttare questa cosa utilizzando il Derstriero Solare Crestato che è un bel 5,5 a questo 5 che dà indistruttibile ai nostri altri cavalli e alla fine di ogni turno se abbiamo guadagnato punti vita in quel turno creiamo un bel cavallo pedine 5,5 quindi ottima veramente in un mazzo con così tanti legame vitale un'altra tematica invece di questo mazzo è la tematica pedine sia il gatto sacro che il pouncer che il solano del branco e persino lince e destero creano pedine anche una carta non felino una delle altre poche che abbiamo nel mazzo crea pedine che è la guardiana della fratellanza è una 2,2 a costo 2 che se la stappiamo estremiamo creiamo una pedina guerriero purtroppo non felino 1,1 bianca con cautela quindi tutte queste pedine vanno in sinergia con la processione dei consacrati che è un incantesimo a costo 4 che ci permette di raddoppiare il numero di pedine che creiamo quindi il sovrano ne farà 4 per volta e così la lince e quando utilizzeremo imbalsamare o eternalize faremo il doppio delle pedine zombie e l'altra carta che ci permette di sfruttare e fatti di avere tante creature in campo in quanto come abbiamo visto ci sono tante maniere di fare pedine è l'ordalia della fratellanza che dà più 2 più 1 a tutte le nostre creature quando entra nel campo di battaglia e ha un altro effetto che funziona con i cartigli ma che in questo mazzo non serve noi le utilizziamo solo per il primo effetto che è quello di dare più 2 più 1 a tutto che quando avremo tante creature in campo magari anche con le gane vitale non sarà per niente male e per di più dà pure cautela quindi se abbiamo creature come la guardiana e il sovrano che attivano la loro abilità stremandosi potremo sia attaccarci grazie al fatto che hanno cautela e dopo averci attaccato usarle subito stremandole quindi sia ci attaccheremo che utilizzeremo la loro abilità per finire per risolvere qualsiasi problema potesse presentarsi davanti a noi abbiamo espellere questo incantesimo a costo 4 con lampo quando entra nel campo di battaglia esilio imparamente non terra controllata da un avversario finché espellere non lascia il campo di battaglia per di più a ciclo sullo costo di un mana bianco quindi se non ci sarà bisogno in un determinato momento di esiliare qualche carta del nostro avversario potremo scartarla per pescarne una nuova vediamo poi le terre abbiamo 4 terre doppie verdi bianche le selve di radate che entrano in gioco tappate tuttavia se la peschiamo magari un po' avanti quando abbiamo già abbastanza terre possiamo pagare 2 per ciclarla e scartarla e pescare un'altra carta e l'unica altra terra non base nel mazzo sono le dune di sheffet questa terra deserto la possiamo tappare per aggiungere un mana in colore oppure possiamo tapparla e pagare un punto vite per aggiungere un mana bianco quindi limitandosi a questa parte come se fosse una pianura che però ci costa delle vite il vantaggio è nella sua terza abilità che possiamo pagare 4 di cui due bianchi tappare le dune e sacrificare un deserto e un deserto quindi possiamo sacrificare se stessa le creature e i controlli prendono più 1 più 1 fino a fine del turno attiva questa abilità solo quando potresti lanciare una stregoneria quindi un'altra maniera per aumentare sostanzialmente il danno che infliggeremo quando avremo magari tante pedine in campo questo era il mazzo dedicato ai gatti ora potremmo passare al mazzo dedicato non a un tipo di creatura ma a una delle meccaniche di questo blocco che è stremare ma questo lo vedremo nel prossimo video good boy grazie a tutti Grazie a tutti